E sempre a Torino torna a crescere dopo 10 anni la spesa per le famiglie della città rispetto al 2023 l'indice infatti è salito dell'1,7% raggiungendo i 2.597 euro. Quello alimentare è il settore che ha registrato il principale miglioramento con un più 16% del totale. L'indagine è stata condotta dalla Camera di Commercio che ha analizzato le abitudini di spesa di 240 famiglie torinesi. Nel sondaggio perde il settore del takeaway così come le bevande compresi gli alcolici mentre in crescita sono frutta, verdura, pesce e dolci. Ma non sono solo le spese per il genere alimentare ad essere in aumento ma anche quelle per le utenze e per i trasporti. Anche i viaggi infatti così come i pasti fuori casa registrano indici positivi per la prima volta dopo il Covid e di leggero aumento ci sono anche le vendite nell'abbigliamento e calzature. Si spende meno infine per i medicinali ma crescono gli importi destinati alle visite mediche ed analisi private.